Per la messa in sicurezza dell'acqua del Gran Sasso, la Regione Abruzzo abbandona il progetto iniziale dell'ingegner Roberto Guercio e sceglie invece la soluzione proposta dalle associazioni Arco Consumatori e Liberi Cittadini 5 Stelle. Si passa dunque da una spesa preventivata di 300 milioni di euro con trivellazioni alla montagna ad un progetto da 50 milioni di euro che prevede la ricerca di captazioni lontane dai laboratori di fisica nucleare, lo smantellamento dei manti stradali e la sostituzione degli attuali canali in cemento con tubazioni in acciaio inox. Qual è la vostra proposta di messa in sicurezza? Intanto di recuperare tutte le sorgenti possibili che stanno intorno al Gran Sasso e non dentro, perché ce ne sono tante, queste possono sicuramente sopperire alle carenze che ogni estate noi ce le abbiamo, quindi si parla di 200-300 litri al secondo e quindi rappresenterebbero quasi il 25% del fabbisogno di tutta la risorsa idrica della provincia di Telo. Quindi allora intervenire innanzitutto all'interno delle due canne, smantellare tutto il manto stradale, intubare l'acqua proveniente dalla sorgente del Gran Sasso in tubi inox e quindi percorrere tutto il tratto fino all'uscita in modo tale che non ci sono delle ingerenze da parte di acque eventualmente contaminate, perché la contaminazione può avvenire sia da parte del laboratorio, ma sia da parte delle canne autostradali, perché comunque sul manto stradale si depositano le polveri sottili dovute alle gomme, gli oli. La Regione Abruzzo ha dato l'ok a questa vostra proposta? Sì, perlomeno ha detto che seguiranno sicuramente le nostre indicazioni o in parte o in toto, in toto, non lo sappiamo, vediamo insomma quello che... Secondo quale cronoprogramma? Allora, i tempi diciamo sono, sembrano essere molto ristretti, d'accordo, anche perché più andiamo avanti e diciamo questa cosa dura da 20 anni, e dura anzi da quando c'è stata la vicenda Balducci, d'accordo che conosciamo tutti, e quindi si era interrotta quella fase di messa in sicurezza. Noi pensiamo che nei prossimi mesi ci sarà un progetto definitivo e da lì poi bisognerebbe fare la solita, diciamo, filiera di quello che è l'assegnazione dei lavori. Grazie.